Obbligo di Green Pass per insegnanti, studenti e personale ATA al rientro in classe. Questa al momento una delle ipotesi del governo Draghi in vista della ripresa delle elezioni per scongiurare così possibili nuovi focolai scolastici. La posizione dell'Associazione Nazionale Presidi, sia a livello nazionale sia a livello toscano, è favorevole al Green Pass. Penso che l'obbligo vaccinale debba passare tramite la condizione del requisito dal punto di vista degli insegnanti. Oppure si tratta di adottare il Green Pass negli stessi termini in cui è stato adottato a livello nazionale per la popolazione, anche all'interno della scuola. Per quanto riguarda le vaccinazioni sotto i 12 anni, le vaccinazioni degli studenti, noi sappiamo che vi sono, diciamo così, dei dubbi, sono stati espressi e quindi questo tipo di vaccinazione non è prevista. Mentre invece è prevista per gli adolescenti. Noi come uomini di scuola, uomini e donne di scuola, non possiamo non avere fiducia nella scienza e quindi nei vaccini. Ancora presto per pensare a come si ritornerà sui banchi di scuola, ma quali sono le ipotesi? Come potremmo tornare a settembre in classe? Sia il documento del CTS recente, sia la circolare a firma di versari recentemente emessa dal Ministero dell'Istituzione, prevedono un rientro al 100% degli alunni. Ora, il rientro è possibile a determinate condizioni. Una di queste è che la vaccinazione progredisca in termini massivi. I locali scolastici, se mantenessimo il metro di distanza, non sono adeguatamente capienti in un certo numero di scuole, mi verrebbe da dire nella stragrande maggioranza delle scuole. Il CTS indica in alternativa la possibilità di indossare per tutti gli alunni e i docenti compreso la mascherina, qualora non vi sia la distanza di un metro dalle rime buccali. Al momento si esclude la didattica a distanza. Personalmente sono convinto che la didattica a distanza abbia avuto un'efficacia minore, anzi abbia prodotto degli svantaggi dal punto di vista degli apprendimenti degli alunni. Tuttavia non va dimenticato che la DAD ha consentito il mantenimento della relazione didattica tra alunni e docenti durante il periodo del lockdown.